Sono in racing podcast tradizionali e lo fanno con la presentazione della Superbike che finalmente torna ad aprire i battenti a fine febbraio e di conseguenza una settimana prima dell'apertura in Australia del campionato 2023 presentiamo calendario e piloti di Superbike e categorie di contorno per una presentazione che verrà replicata peraltro settimana prossima con la Formula 1 che partirà il 4 e 5 marzo in attesa di tornare con i commenti dei gran premi. Parliamo allora di questa Superbike che presenta un calendario di 12 appuntamenti con il format che ormai dal 2019 è sdoganato quindi due gare lunghe al sabato e a domenica pomeriggio e una sprint race alla domenica mattina. Si parte dal circuito che ha chiuso il campionato scorso ovvero Phillip Island dunque torna alla classica australiana di fine febbraio per di fatto una doppietta extraeuropea del campionato di elevata dalla serie perché dopo Phillip Island si correrà a Mandalika il circuito indonesiano che ha dato tante soddisfazioni per quanto riguarda l'assegnare il titolo del mondo. L'anno scorso ci ricordiamo come Bautista conquistò il titolo proprio al Mandalika Street Circuit stessa cosa fece Toprak Rasgat Yoglu l'anno precedente di conseguenza un 1-2 extraeuropeo prima di concentrarsi su tutti i round europei fino ad Argentina che sarà quello che concluderà il campionato Superbike. Quest'anno il campionato Superbike appunto presenta 12 appuntamenti sono gli stessi dell'anno scorso uno è ancora da decidere si parla addirittura di Imola quello che è certo è che ci sarà un round in Italia anche quest'anno e anche quest'anno sarà Misano il 3-4 giugno dunque di fatto c'è un mega puntone per il weekend della festa della Repubblica il 2 giugno sapete che è festivo 3-4 si corre per le Superbike dunque anticipato rispetto al solito di una settimana il round del circuito italiano peraltro sarò presente a Misano quest'anno a vedere il weekend di Superbike non sarò solo perché ci sarà anche il buon Jake TV che darà una mano nei contributi direttamente da Misano dunque aspettatevi in quel caso vlog non solo della gara ma anche di tanti altri progetti che sto facendo con appunto il buon Jake link ovviamente al suo canale in descrizione per vedere quello che abbiamo fatto sia per quanto riguarda le corse in kart vera sia per quanto riguarda il gameplay di Formula 1 22 e dopo due anni tornerà dunque il vlog a Misano in attesa di vedere se ci sarà anche Imola in una Superbike che appunto si concentra come sempre oramai in Europa perché il primo round europeo è quello di Assen il TT l'ultimo è quello di Portimao circuito internazionale dell'Argarve in attesa che arrivi il conferma del dodicesimo round si chiude il 15 di ottobre a San Juan de Villicum che di solito è il circuito che apre le trasferte extra europee qui invece sarà una prima volta perché mai il circuito argentino ha chiuso un round del campionato mondiale Superbike un campionato mondiale Superbike che presenta come gli anni scorsi era mai 24 piloti con 5 team ufficiali da 2 piloti ciascuno e tutti team indipendenti pronti a riscattarsi o a confermare le relative ambizioni a partire da Alvaro Bautista e qui parliamo ovviamente di team ufficiali partendo da chi ha vinto il campionato mondiale scorso un Bautista che come lo scorso dicevamo ha fatto il salto di qualità soprattutto dal punto di vista mentale completando quello che è un pacchetto a tratti dominante a tratti imbattibile perché già in quel famoso 2019 Bautista aveva dimostrato sprazzi di ottima Superbike che però fu buttata via appunto nella seconda metà dove vinse il titolo Jonathan Ray qui invece Bautista ha completato l'anno scorso quel processo di maturazione mentale che tanto evidentemente gli serviva per vincere il titolo e quindi appunto è arrivato il primo titolo per Ducati dopo Carlos Cieca dunque sempre di Spagna Trattasi sarà evidentemente ancora una volta un duello con i Big 3 perché Razgattioglu e Ray non partono battuti certo che i test che hanno fatto a Portimao e a Erez hanno dimostrato che ancora Bautista, Razgattioglu e Ray sono ancora i piloti da battere anche per questo 2023 rimanendo invece in caso Ducati viene confermato il pilota Michael Ruben Rinaldi che ha fatto una stagione per alcuni sotto le aspettative per altri comunque in linea perché è evidente che i Big 3 difficilmente sono battibili Rinaldi comunque ha avuto il merito di essere il primo degli altri classificandosi quarto in classifica generale dello scorso anno Rinaldi è stato confermato, certo molti si aspettavano che Bassani potesse fare il salto da team motocorsa a team ufficiale alla fine Ducati ha deciso di rimanere esattamente come l'anno scorso con il Romagnolo in Ducati ufficiale e il Veneto in team motocorsa ma di Bassani ne parleremo quando passeremo ai team indipendenti il team ufficiale di riferimento appunto era Ducati, gli altri ovviamente sono ancora una volta Yamaha e Kawasaki con Yamaha che ancora una volta conferma Toprak Razgattioglu e non potrebbe che essere altrimenti titolo vinto nel 2021, runner up nel 2022, Razgattioglu deve tornare evidentemente a contendere il titolo anche una volta certo la Yamaha parte da un mezzo potenzialmente inferiore rispetto a questa Ducati quindi è evidente che il turco dovrà metterci molto del suo per pezzare quello che Yamaha non gli dà certo vedere ancora una volta un duello tra tre piloti clamorosamente forti come Bautista e Ragazzaguri è sempre un bene per gli occhi il problema però è che secondo me rischiano di tarpare le ali e di oscurare anche i compagni di squadra per quanto forti perché a fianco a Razgattioglu abbiamo Andrea Locatelli, pilota italiano di Selvino, provincia di Bergamo che è alla terza stagione in Superbike dopo due buone stagioni nello scorso anno e nell'anno prima sempre con Yamaha ufficiale ci si aspetta forse una conferma o comunque un miglioramento da parte sua perché è vero che l'anno scorso ha fatto meno poli dell'anno prima ma è altrettanto vero che appunto ancora una volta i tre là davanti Ray Razgattioglu e Bautista hanno fatto veramente il bello e il cattivo tempo era difficilissimo forse fare meglio di quarto in alcune gare di conseguenza la conferma per Locatelli è assolutamente importante quindi vedremo se saprà confermare quanto meno i piazzamenti dello scorso anno il pilota Bergamasco chi deve secondo me invece riscattarsi è il terzo big three della Superbike ovvero Jonathan Ray che di fatto viene dalla peggior stagione pound for pound della carriera da quando è con Kawasaki certo non è più il Jonathan Ray dominante di quando vinceva e stravinceva con la ZX10RR Ninja ma è altrettanto vero che comunque anche l'anno scorso nelle difficoltà Jonathan Ray ha fatto delle pole position ha vinto comunque delle gare segno che comunque il talento non si perde non si perderà mai ricordiamo che Ray ha vinto 120 gare in carriera il pilota più vincente di sempre di questa Superbike chi invece deve riscattarsi forse anche il video di Jonathan Ray è Alex Lowes il suo compagno di squadra che ha fatto una stagione disastrosa lo scorso anno battuto anche da team indipendenti per esempio il team GRT a volte il team Bonovo spesso motocorsa e con la seconda Kawasaki ufficiale Lowes sicuramente doveva e poteva fare di più secondo me Lowes sarà un uomo sotto la letta di ingrandimento per i motivi sbagliati perché un'altra stagione fallimentare probabilmente vorrebbe dire addio Kawasaki cambio squadra insomma attenzione ad Alex Lowes che potrà secondo me essere un uomo sotto la letta di ingrandimento per i motivi sbagliati però chi invece potrà essere sotto la letta di ingrandimento per i motivi giusti è il team Onda perché l'anno scorso ha fatto dei grandissimi passi da gigante per quanto riguarda i team ufficiali soprattutto per merito di Iker Lecuona ragazzo spagnolo che è stato uno scarto della MotoGP dopo una stagione in KTM Tech 3 era evidentemente forse troppo giovane per la MotoGP dopo delle discrete stagioni comunque in Moto2 appunto è arrivato in Superbike in onda ufficiale e alla fine Lecuona ha dimostrato comunque di essere sul pezzo nelle occasioni giuste ha fatto qualche podio qui e lì quando magari Rasgattioglio e lei sono caduti vedi Assa l'anno scorso ha fatto delle buone prestazioni da top 5 con costanze in alcune gare insomma Lecuona è un uomo da tenere d'occhio così come Xavi Vier che è il suo compagno di squadra altro spagnolo che per me è dalla derivata dei prototipi quindi in questo caso Moto2 quindi attenzione a questo team spagnolo di Honda molto giovane molto promettente Lecuona ha già fatto uno step in più rispetto a Vier che però attenzione anche al 97 che anche lui ha voglia di riscatto chi deve riscattarsi in toto invece è l'ultimo team ufficiale dei 5 previsti ovvero BMW una M1000RR che spesso ha difettato di motore di ciclistica soprattutto di motore e che conferma Scott Redding e Michael Van der Mark Scott Redding era il mio cavallo di punta per Ducati pilota che mi è sempre piaciuto e mi è dispiaciuto vederlo andare via per una moto molto meno competitiva Redding evidentemente anche lui deve riscattare una stagione disastrosa certo non solo per dei meriti suoi ma soprattutto per dei meriti della moto che appunto ha quegli difetti di cui vi ho parlato prima BMW deve secondo me assolutamente arrivare al riscatto perché una casa prestigiosa come la casa di Monaco non può permettersi secondo me di fare la comprimaria certo BMW M1000RR è una moto bellissima da vedere dal punto di vista estetico ma con l'estetica in Superbike ci si fa veramente poco Redding e Van der Mark comunque è una coppia molto interessante se per Redding si può parlare di riscatto qui deve essere una rinascita di Michael Van der Mark che la stagione scorsa l'ha passata praticamente più in infermeria che altro ha fatto non dico la metà delle gare ma poco ci manca e appunto andando e venendo da tanti infortuni è difficile secondo me aspettarsi prestazioni di livello come gli altri anni Van der Mark guardiamo che ha fatto anche dei podi e delle vittorie per la carriera della Superbike quindi non è proprio l'ultimo dei fermoni vedremo come si comporterà la casa di Monaco che comunque ha del potenziale certo per ora molto inespresso a differenza di Honda che è vero che ha di fatto un solo team competitivo ma comunque delle nuove ufficiali arrivate da meno tempo in Superbike evidentemente BMW è quella che difficita assolutamente di più completiamo la carriera dei piloti con il resto dei team indipendenti che potranno comunque regalare soddisfazioni o comunque eventuali conferme da Filipe Hutt il primo degli indipendenti in ordine di numero di questa lista di Wikipedia inglese non ci si aspetta chissà che probabilmente è un pilota da punti con costanze il Team Goe 11 probabilmente non lo aiuta più di tanto a emergere come competitività certo che con quella stessa moto Michael Rinaldi qualche anno fa vinse addirittura tra gare segno che evidentemente nelle giuste condizioni il pilota può emergere anche con un team privato hotel comunque ha il merito di correre sulla moto più bella di tutte perché la livra del Team Goe 11 è un modo di vedere bellissima bianca e azzurra per questa Ducati un po' atipica ma comunque interessante da qui invece mi aspetto grandi cose è Danilo Petrucci che torna dopo anni di MotoGP e anche l'ultimo con Dakar e American Superbike nella categoria regina delle derivate della serie e lo torna o meglio lo fa con il Team Barney Team che da quando è andato via Ciavi 4S ha un po' perso la trebisonda su chi evidentemente puntare come piloti sono state fatte delle scelte a volte dei giovani vedi per esempio l'anno scorso Bernardi scelte di esperienza vedi Rabat o Samuele Cavalieri tutte scelte che non hanno portato gli dividendi e di conseguenza si punta su un pilota che ha dimostrato di essere comunque un buon pilota perché Petrucci ha vinto una gara in MotoGP al Mugello ha fatto dei podi è un mago della pioggia è un pilota che può emergere nelle giuste condizioni quindi è una buona scelta quella di Petrucci nel mio modo di vedere e saranno dei piloti da me attenzionati con maggior evidentemente occhio perché a me Petrucci è sempre piaciuto e quindi vederlo in una nuova veste di superbike dopo tanti anni mi incurici assolutamente quindi vedremo come si comporterà il pilota di Terni Yamaha Motix Racing invece cambia pilota da Roberto Tamburini si passa a Bradley Ray che è il campione in carica del British Superbike altro pilota che come Redding è andato in British Superbike per vincere il titolo e approdare il Superbike Ray ha corso prima con Suzuki e poi con Yamaha adesso appunto il Moto X Racing esordisce e vedremo come si comporterà il numero 28 il team Bonova invece rimane a BMW e cambia uno dei due piloti si è ritirato Eugene Lavert dopo anni di onorata carriera e lo stituisce con Gerd Gerloff pilota statunitense che ha fatto due anni in Yamaha uno bellissimo nel 2021 uno disastroso l'anno scorso nel 2022 Gerloff è un pilota giovanissimo ma che purtroppo ha il vito di stendersi molto per terra di conseguenza bisogna dosare un po' l'eccessiva fuga del Texano è un pilota che comunque può permettere tanto bene per un'America della Superbike che deve tornare ad avere un pilota competitivo e Gerloff è secondo me un buon cavallo di punta attenzione però appunto all'incostanza vedremo come si comporterà il pilota Texano confermato invece Loris Bass che comunque ha avuto modo di tornare in Superbike un po' a sorpresa qualche anno fa ha conquistato anche dei podi dei buoni piazzamenti con delle moto private quindi è una conferma più che meritata per il pilota francese peraltro ex anche lui MotoGP l'altro pilota che abbiamo in elenco è Isaac Vignales che corre per il team di Lucio Pedercini Cavazaki Clienti va detto però che Vignales non partirà subito in Australia lo vedremo all'opera partire da Alsan in avanti verosimile una campagna europea per il cugino di Maverick Vignales pilota attualmente in Aprilia MotoGP il team GMT 94 invece ha l'esorto assoluto e schiera una Yamaha così come in Super Sport e dalla Super Sport arriva Lorenzo Baldassarri pilota marchigiano che ha fatto una vita in Moto2 l'anno scorso ha esordito in Super Sport è arrivato secondo dietro al dominatore Dominic Gerter e ha fatto subito il salto in Superbike nel nuovo team GMT 94 che condensa un po' le forze un po' come Puccetti con una moto in Superbike e una in Super Sport Baldassarri è un pilota che può secondo me fare bene in questa Superbike può puntare secondo me inizialmente a una top 10 con costanza è un pilota che di certo non è fermo in Moto2 non ha avuto molte fortune con più cadute che altro e l'ultimo secondo soprattutto nell'anonimato in Moto2 appunto male in Super Sport invece meglio addirittura con vittorie e proposition delle gare contestate con le Gerter che invece era assolutamente imbattibile il team Mie invece conferma Hafiz Siarini il pilota malese che in realtà era una grande ambizione di zona punti perché il team Mie ha sempre navigato nelle basse profondità della classifica viene istituito invece Eleandro Mercado con il brasiliano Eric Granado pilota che comunque ha conteso il titolo in Moto2 nelle ultime stagioni e che fa di fatto il suo esordio a tempo pieno in Superbike il team Motocorsa invece è un team sul quale io ripongo molte speranze perché viene confermato Axel Bassani che probabilmente è stata la sorpresa più grande dell'anno scorso in Superbike Bassani assolutamente è esploso lo scorso anno ripeto c'è chi lo voleva in Ducati ufficiale alla fine Ducati ha deciso di mantenerlo in Motocorsa e non è una scelta forse così sbagliata perché abbiamo visto come l'anno scorso questo binomio ha fatto dei risultati addirittura oltre alle aspettative con dei podi secondo posto che è migliorato in carriera con dei quinti posti con costanza con ripetute volte un privato che batte un ufficiale cose meravigliose fatte da Axel Bassani che è un privato molto giovane per livello di un classe 99 quindi attenzione allo sviluppo di questo ragazzo che può essere secondo me il futuro della Superbike italiana senza sé e senza mano seguirò con molta attenzione il numero 47 il pilota successivo in elenco è Oliver Koenig il pilota cieco che non ha grandi ambizioni per lui va già bene se si arriva in zona punti Koenig è stato confermato in Kawasaki Timorelac Koenig ricordiamo che è stato uno dei pochissimi piloti a fare il doppio salto dalla 300 alla diciamo Superbike quindi 1000 di cilindrata un altro ritorno invece gradito è quello di Tom Sykes il turmone nazionale dopo un anno in British Superbike torna nella massima categoria derivata dalla serie dopo essere stato scaricato brutalmente da BMW arriva direttamente al team Puccetti un team indipendente molto interessante molto importante del know-how e della storia Tom Sykes ricordiamo il pilota con più pole position nella storia della derivata della serie e può secondo me anche una volta anche quasi a 40 anni avere un talento che sicuramente non si perde nel giro secco in gara va valutato sarò molto curioso di vedere Tom Sykes uno dei miei piloti preferiti di sempre il 66 sono veramente contento del suo ritorno e vedremo appunto come si comporterà già nella prima gara di settimana prossima in Australia chiudiamo l'elenco dei piloti della Superbike 2023 con il team GRT che di fatto cambia tutta la sua line-up vanno via Gerloff e Nozzane e vengono inseriti prima Dominic Gerter che è stato il dominatore delle ultime due seasoni della Supersport e per fortuna è arrivato in Superbike il pilota svizzero e di conseguenza sarà molto interessante vedere l'opera nella classe regina dopo aver veramente svergognato chiunque e bullizzato gli avversari in due seasoni di Supersport dominando in lungo e in largo e in secondis Remy Garner che dopo un anno disastroso in MotoGP dopo aver vinto il Mondiale Moto2 con il Bull KTM va in Superbike in un team GRT assolutamente interessante col potenziale secondo me il team GRT ha le chance per essere il miglior team indipendente insieme a motocorsa insieme a Puccetti per know-how e per tradizione vedremo se i piloti potranno rispettare questo pronostico e già appunto tra una settimana in Australia vedremo come ci si comporterà questa era la panoramica generale sulla Superbike andiamo velocemente a parlare delle altre categorie in particolare della Supersport una Supersport Next Gen che ricordiamo ha avuto l'ampliamento dei regolamenti lo scorso anno dopo un monologo Yamaha e Kawasaki 600 adesso sono entrate dall'anno scorso Ducati Triumph ed MV Agusta rispettivamente 955 765 e 800 si è aggiunta quest'anno anche Honda per una 600 pura per una nuova Supersport che è un campionato molto interessante che prevede 30 piloti e come lo Superbike 12 round anche se le gare saranno 2 per evento e non 3 come la Superbike i piloti che vedete impegnati con la lettera C sono quelli che evidentemente andranno a correre solo le gare europee ma ci sono dei nomi assolutamente interessanti a partire probabilmente da questo ragazzo qua Gianno Honkou che è uno dei piloti secondo me che può puntare al titolo del mondo della Supersport 600 mi verrebbe da dire ma Next Gen è il termine più corretto perché andando via Baldassarri e andando via e Gerter e vi rende spazio anche per gli altri che l'anno scorso hanno fatto probabilmente delle comparse o comunque non potevano competere per questo titolo è una Supersport che comunque possiede delle risorse importanti dal punto di vista del talento Gianno Honkou che è uno di questi Nicolo Bullega secondo me è un pilota che può secondo me puntare al titolo assolutamente il pilota di Montecchiemiglia peraltro non così lontano da casa mia è un pilota che l'anno scorso ha fatto dei podi con la nuova Ducati V2 955 che ha avuto una farfalla un po' cambiata dai vari regolamenti della Supersport appunto regolamentati in corsa attenzione sempre per rimanere in Italia Stefano Manzi che cambia casacca da Triumph a Yamaha Tenkate Tenkate è il team campione in carica che appunto ha schierato e Gerter per due stagioni Manzi ha avuto il merito di far vincere la Triumph per la prima volta lo scorso anno e a fare dei podi e infatti Tenkate team di punta della Supersport se l'ha giudicato però Tenkate è molto interessante perché l'altro pilota è Orke Navarro ex pilota Moto2 che fa il suo esordio nella classe di mezzo piloti che seguirò con molta attenzione sicuramente Oliver Bayliss il figlio di Troy rimane in Ducati ma da Tim Barney passa al team di Davide Giuliano Tim Barney che schiera Iari Montella pilota che l'anno scorso ha fatto i primi podi in carriera in Supersport e può secondo me essere un ago importante per essere però un outsider chi invece secondo me può puntare al titolo è Federico Caricasulo che l'anno scorso ha raccolto meno di quanto sperato ma è un pilota che la categoria la conosce e può assolutamente fare molto bene Caricasulo è rimasto nel team Altea di Genesio Bevilacqua quindi attenzione perché il binomio è buono se mette tutto a posto e tutto va per il verso giusto Caricasulo può essere competitivo al netto che secondo me i titoli si possono diciamo competere tra il team Puccetti Kawasaki il team appunto Altea attenzione al team Evan Bros perché attenzione non avrà un nome altisonante Andrea Mantovani comunque è un buonissimo pilota abbiamo visto in MotoE che ha fatto dei podi è un pilota comunque che ha fatto qualche comparsata qui e lì ma nel National Superbike è un pilota di assoluto rispetto Evan Bros è un team che deve riscattarsi e Andrea Mantovani può essere un outsider e una sorpresa sappiamo come i piloti del team Evan Bros si evidentemente adattano tantissimo e meglio di altri piloti alle nuove moto proposte quindi Mantovani attenzione in chiave outsider ripeto secondo me per i titoli attenzione a team Tencate quindi Navarro Manzi a Puccetti con Gianoncu Mantovani Tim Evan Bros e poi via via tutti gli altri con qualche sorpresa qui e lì nota a margine importante non c'è più Jules Clusel che si è ritirato causa appunto problemi fisici e appunto questi tanti infortuni l'hanno precluso nel continuare la carriera al suo posto viene scelto Valentin De Bis pilota esperto attenzione che il GMT 94 con un nome non altisonante può secondo me fare tanto tanto bene con i pilota evidentemente francese esattamente come Clusel altri piloti invece a tenere d'occhio invece per quanto riguarda la chiave outsider sono sicuramente il numero 99 Adrian Cuertas pilota spagnolo che l'anno scorso è esploso in Supersport con delle top 10 costanze e qua può fare sicuramente il salto di qualità attenzione anche a chi ha Triumph che l'anno scorso appunto ha vinto qualche gara però cambia formazione e schiera Harry Trulove pilota inglese che ha fatto una wildcard lo scorso a Donington e Nicky Tully il finlandese volante che è quanto veloce quanto evidentemente falloso perché spesso si stende ma è un pilota che se inquadra anche lui la via giusta può essere un outsider importante abbiamo detto però che appunto entra Honda e lo fa con due piloti un po' improbabili anche se sono molto interessanti non Adam Norrodin che è un malese esperto delle classi intermedie dopo una vita nel Moto2 europeo va in Supersport 600 mi aspetto molto invece la Terran McKenzie che è stato campione del British Superbike nel 2021 l'anno scorso ha fatto una compazzata in Superbike con Yamaha una wildcard a Donington e adesso va nella Honda CBR 600 con appunto una nuova avventura a tempo pieno in Supersport l'ultima casa invece che non abbiamo canalizzato è MV Agusta che di fatto conferma va fatta in suo foglio ampliando la sua stagione al Toto della Supersport e non soltanto all'europeo mentre l'altro pilota è Marcel Schroeter che ha fatto una wildcard l'anno scorso a Phillip Island e adesso è a tempo pieno anche lui nella casa italiana l'MV Agusta è una moto molto ma molto interessante in Toto attenzione come ultima nota a margine a due piloti John McPhee il venerabile maestro che dalla Moto3 arriva in Supersport per aver raggiunto i limiti d'età in Moto3 ma lo scozzese è un buon pilota e può secondo me far bene in Supersport e così come mi aspetto molto bene le cose da Alvaro Dias il pilota campione in carica della Supersport 300 per quanto riguarda appunto la vecchia stagione adesso è in Supersport con lo stesso team il team Arco ma appunto Alvaro Dias inizia la campagna Supersport soltanto con i round europei gli altri piloti italiani per concludere evidentemente la nostra panoramica sono Raffaele De Rosa il grande veterano l'esperto Raffaele De Rosa che confermato nel Team Moralac insieme a Federico Fuligni che rimane in Ducati ma cambia team da Davide Giuliano appunto a il Team Moralac ma Fuligni farà soltanto il round europeo l'ultimo pilota italiano è Nicolás Spinelli che l'anno scorso fece una gara con MV Agusti e adesso va in Team VFT quindi Yamaha questo in generale è la Supersport Next Gen è un campionato molto interessante perché ci sono molti piloti talentuosi con 6 case coinvolte addirittura in più della Superbike molti meno case invece coinvolte nella Supersport 300 che schiera di fatto anche una volta un monologo tra KTM e scusatemi tra Yamaha e Kawasaki con due eccezioni una è la KTM del Team Freudenberg l'altra è la Cove scuderia che fa l'esortio assoluto ma parliamo di queste due scuderie scusatemi che fanno eccezione KTM appunto il Team Freudenberg schiera il Dirk Geiger che passa da Fussport Kawasaki appunto al Team Freudenberg che poi viene conservato e confermato meglio l'Ennox Lehmann pilota tedesco che appunto dopo aver fatto due podi lo scorso anno un po' è sceso ma comunque è un pilota giovane su cui punta la casa austriaca di Team Tedesco l'altro esordiente assoluto in realtà è tutto un complesso ed è appunto Cove che è praticamente questa marca cinese di motociclette di piccole cilindrate che schiera appunto la 321RR e lo fa con un team cinese e un pilota cinese perché se abbiamo uno Joe in Formula 1 abbiamo uno Joe anche in Supersport 300 in questo caso il ragazzo si chiama Shen Guie credo si pronunci così chiedo scusa per l'orribile pronuncia fatto sta che è un pilota interessante in quanto appunto è il primo cinese esordine in questa categoria che è un trampolino di lancio in realtà per le categorie successive abbiamo visto come tanti piloti si sono passati anche in Superbike ma soprattutto nella 600 c'è qualcuno invece che è tornato indietro in particolare Jeffrey Buiz campione del 2020 in questa categoria pilota che in Supersport 600 ha fatto molta fatica e dunque torna indietro in un campionato dove gli ulandesi in realtà l'hanno sempre spiegata italiani presenti in questa categoria ce ne sono tantissimi sono un po' delle conferme un po' dei giovani in particolare a partire da Mattia Martella che ha fatto una wildcard l'anno scorso e torna quest'anno confermato Alessandro Zanca che se cambia team va nel team 109 Kawasaki confermato Kevin Sabattucci che va nel team Flambeau gli altri italiani Matteo Vannucci probabilmente il più importante della nostra battuglia viene affiancato da Gabriele Raffaele Tragni del team AG Motorsport Italia Yamaha Gabriele Mastoluca viene confermato anche se va in un team importante che è il team campione in carica il team Marco Motto insieme a Ruben Bayman dunque attenzione a questo team Davis Bergamini fa l'esordio a tempo pieno in Supersport dopo una wildcard lo scorso anno e chiudono il numero di italiani Marco Gaggi ma soprattutto Mirko Gennai pilota toscano che ha fatto dei podi lo scorso anno quindi Vannucci Gennai sono sicuramente i più importanti su cui puntare per i nostri portacolori in un campionato in realtà molto particolare che di fatto è un mega macello che vedrà protagoniste le 300 in un round meglio in un calendario di 8 round per 16 gran premi ovviamente tutti i round europei evidentemente si aspetta che venga confermato l'ottavo round che sarà il dodicesimo per Superbike e Supersport la 300 è sempre un macello perché è una moto 3 di fatto trasposta nelle derivate della serie comunque i nomi più importanti sono sicuramente Buiz per Palmares e anche Samuel Di Sorà che l'anno scorso è andato comunque a contendere il titolo seppur in parte lo scorso anno vedremo chi succederà ad Alvaro Diaz mentre in Superbike vedremo che ci sarà qualcuno che potrà confermarsi come bautista o se qualcuno potrà far saltare il banco oppure due dei tre big three rimanenti potranno avere possibilità di confermare e di contendere il titolo bautista lo vedremo già a partire dalla prossima settimana con la prima gara in Australia ricordo 25-26 febbraio a Phillip Island fate il saluto da parte di Matthew Thorgaard ci vediamo al prossimo video a partire a partire